Un anno di lavoro per me è stato, in particolare per me è stato alquanto duro e impegnativo e continuerò sicuramente ad impegnarmi perché sono cosciente del grande peso che mi è stato affidato e che mi hanno affidato i cittadini eleggendomi. Chiaramente io non mi posso distaccare da quello che è stato il mio background, quindi l'impronta che io voglio dare un po' a tutta l'istituzione è quella di una maggiore apertura verso le nuove generazioni perché è su quelle che bisogna, secondo me, puntare. Nuove generazioni, più in generale maggiore apertura nei confronti dei cittadini perché una cosa che ho visto è stato proprio lo stacco fra vita reale e vita qui nel palazzo. Quindi tenere sempre presenti i bisogni e le richieste dei cittadini, tenere sempre davanti agli occhi quelle che sono veramente le esigenze della Regione per poter agire in maniera sinergica e collaborativa. Poi chiaramente le posizioni e l'idea di Regione della maggioranza e delle forze d'opposizione non coincidono, però bisogna essere bravi e questo è anche uno dei miei compiti principali, a cercare di fare un sunto e di far permeare un pochino le richieste delle minoranze in quelle di maggioranza e vedere di trovare un punto d'arrivo comune, almeno si spera.